Quentin Tarantino Quentin Tarantino, l'eccentrico e geniale regista, è atterrato a Roma per la premiere VIP di Bastardi senza gloria, il suo ultimo capolavoro. Folla di fans e media ad attenderlo su Red Carpet, ma non solo. Cedvig Fenech, la sua attrice preferita, regina della commedia all'italiana che Quentin adora. Altra diva degli anni 70 e 80, la sempre bella Barbara Boucher. L'affascinante Luca Calvani naufraga nelle pellicole un po' palpa di Tarantino. Valeria Marini non poteva perdere l'occasione di una premiere tanto ghiotta, amante del buon cinema al risposto presente. Molti ospiti di grido per una star capace di sfornare successi di critica e soprattutto di pubblico. C'è pure Federico Zampaglione che non lesina complimenti. Quentin, dal quanto suo, sorride e firma autografi, stringe mani. Sarà pure un personaggio sopra le righe, ma simpatia e bravura sono dalla sua parte.